La proprietà ci ha spiegato in quattro parole che loro hanno intenzione di chiudere lo stabilimento, ma il problema è che ci sono 40 famiglie che siamo tutti lì nella stessa barca, capito? Il contratto di solidarietà per i dipendenti dell'ex Lametal scade a marzo, ma oltre al pericolo di rimanere senza occupazione, i lavoratori che in segno di protesta dormono in un gazebo davanti allo stabilimento di Oliero non ricevono lo stipendio da quattro mesi. Un nostro collega per pagare una tassa ha dovuto andare per esempio a prelevare i soldi delle bambine delle proprie figlie, quindi i risparmi che avevano messo via le proprie figlie. Siamo alla canna del gas. Una situazione difficilissima per 40 famiglie che almeno fino ad ora non hanno ricevuto notizie rassicuranti dalla proprietà. Loro ci hanno detto che non hanno fondi, non hanno soldi, le banche si vede che da come noi abbiamo capito hanno chiuso i robinetti e loro si trovano che non hanno neanche i soldi per comprare il materiale perché dalle nostre statistiche che abbiamo parlato abbiamo sentito che ordini ce ne sarebbero anche però il problema è che non hanno i soldi per comprare il materiale. Intanto prosegue il presidio davanti allo stabilimento. Abbiamo una solidarietà straordinaria, straordinaria perché arrivano da tutte le parti del Bassanese, ci portano da mangiare, ci portano attrezzi, attrezzature e quindi il morale è ancora alto. Quando si torna a casa si torna alle problematiche di sempre, insomma. I soldi che mancano, le tasse da pagare, i mutui, gli affitti.